buongiorno bentornati e vmf we make a future qua in circolazione perché faremo una pericrow, cioè dopo ve lo spiego, cioè aperitivo parlando di crowdfunding lo spieghi dopo, vi dico rimanere qua perché c'è l'aperitivo, c'è il caffettino, l'aperitivo, non vi facciamo mangiare ma almeno vi facciamo bene questo domani, no scherzando ciao Mario TBB, col cuore, col cuore sempre we make future, capito? Mario Show, siamo qua per we make future, sì, basta ciao ciao ciao